Credo che sia importante tornare un po' ad essere missionari nelle nostre comunità che si ritrovano e si risvegliano anche dopo un periodo molto tormentato, il covid, le guerre, eccetera della necessità di tornare a parlarsi, le persone per confrontarsi, per ritrovare una loro identità per dare un contributo alla democrazia. Quattro giorni di dibattiti e tavole rotonde su tematiche di stretta attualità con ospiti di rilievo nazionale, ma anche sport, musica, teatro e gastronomia. Si è così conclusa la diciannovesima edizione della festa provinciale e regionale delle Acli ospitate in piazza Donald C. del Lazzari a Ponticino. Il coraggio della pace verso il giubileo della speranza, il filo conduttore dell'evento. Devo dire che sono state più questioni anche di livello nazionale, però sono molto importanti per quella che è la missione delle Acli, quindi la questione della democrazia, di come si sta evolvendo, la questione della pace e anche trattando il libro di Emiliano Manfredoni, del Presidente nazionale che ha partecipato all'iniziativa e poi appunto tutti i momenti di riflessione che abbiamo fatto anche internamente all'associazione, con il regionale e con ovviamente il provinciale, le Acli provinciali. Credo che sia molto importante perché circola diversa gente, abbiamo avuto dei politici abbastanza rinomati, quindi credo che sia un vanto anche per il Paese. Con la mia presenza voglio dire esprimere l'attenzione della Chiesa per il mondo del lavoro e anche in modo particolare per le Acli che vivono un servizio di attenzione, di tutela, di promozione, di rispetto della dignità del lavoro e soprattutto dei lavoratori. Quindi una bella occasione.